Ciao, oggi ti voglio raccontare dove è nata la mia passione per le pompe di calore, o meglio, dove è nata la mia passione per vivere senza gas. Ciao, oggi sono in montagna, come vedi con la neve, sono qui con la mia famiglia e colgo l'occasione per raccontarti come è nata la mia passione per vivere senza gas. Tutto è nato diversi anni fa, nel 2012, quando mi sono chiesto perché nei paesi nordici, quindi in Svezia, Norvegia, Nestonia, vivono senza gas, quindi riscaldano casa con le pompe di calore invece che con la caldaia. E non era solo una mia fissa questa cosa, non era solo un detto comune che nei paesi nordici funziona la pompa di calore e non funziona la caldaia, proprio sono i dati di fatto. Infatti, se raccogli i dati statistici, ti accorgi che, ad esempio, nel 2018, in Norvegia, su 100 nuovi generatori di calore, che possono essere caldaie, stufe, caldaie a biomasse, caldaie a metano, a gasolio, pompe di calore e quant'altro, 96 erano pompe di calore. Quindi 96 pompe di calore installate su 100 generatori di calore nel 2018. E questo va un po' contro quello che è il pensare comune, che la pompa di calore funziona solo con le temperature miti e non funziona quando fuori fa freddo. Perché allora nei paesi nordici funziona con il freddo? Perché utilizzano prodotti professionali e perché lo sanno fare bene da diversi anni. Ok, ma poi dirai, lì costa meno l'elettricità. No, non è vero. Allora, se vai a vedere i dati statistici, anche in questo caso, ti accorgerai che non solo nei paesi nordici è più conveniente la pompa di calore, ma lo è anche in Italia. Ecco qui ad esempio i dati statistici. Quindi la mia spinta per capire come vivere senza gas arriva per due motivi principalmente. Uno, dal punto di vista tecnico, perché sono un ingegnere, e quindi la mia curiosità nel capire come funzionano le cose e nel capire perché in altri posti funzionano e in Italia non erano applicate, mi ha portato ad addentrarmi ancora di più in questo settore. E poi l'altro motivo è la mia famiglia, che in questo momento è qui dietro a correre su e giù per la neve, perché non voglio che i miei figli crescano in un mondo inquinato. Se leggi qualsiasi articolo, sempre più bambini soffrono di patologie legate alle vie respiratorie. Perché? Perché abbiamo un'aria inquinata nelle nostre città, nei nostri paesi. E non è giusto regalare questo futuro ai nostri figli. Quindi questa è la seconda motivazione che mi ha portato a capire come riscaldare casa senza gas, senza inquinare. Ed è per questo che ho creato una rete di installatori che aiutano le famiglie a staccarsi dal contatore del gas e vivere senza queste fastidiose bollette. E lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Ovviamente non utilizzano pompette di calore che trovano su ebay, non le installano a caso ma seguono un protocollo preciso per garantire alle famiglie un risultato e un comfort che nessun altro ti può garantire. Con questo ti saluto e ci diamo appuntamento al prossimo video. Spero che anche tu potrai fare qualcosa per il nostro pianeta.